Cioè questi qua hanno votato la Fornero, hanno votato il Jobs Act, penso a Speranza. Invece noi vogliamo essere di rompipalle, cioè parlare di quello che succede realmente, sia nel campo del lavoro che in tanti altri settori. Speriamo di sì. Ma anche di essere, come dire, una bella cesura con quella sinistra, nella quale personalmente non mi sono mai riconosciuta e non ci riconosciamo, nessuno di noi si riconosce. Cioè questi qua hanno votato la Fornero, hanno votato il Jobs Act, penso a Speranza. Quindi i nomi sono anche i programmi, no? Qualcuno ha detto all'inizio della campagna elettorale le biografie non ci interessano. No, le biografie ci interessano perché quello che uno ha fatto, secondo me, è anche, come dire, un'ipoteca su quello che farà. Quindi contano i nomi e contano i programmi. Il Jobs Act è effettivamente una legge peggiorativa anche rispetto a quelle che proponeva Berlusconi a suo tempo. E dunque, come dire, l'hanno distrutto il mondo del lavoro, che adesso ci dicono che vogliono abolire la Fornero. Peraltro molti dicono che vogliono soltanto leggermente modificarlo, è solo Salvini che dice che la vuole abolire, ma appunto quando erano al governo non l'hanno fatto. Intanto vanno ripristinati dei diritti. Io penso a una cosa, sarà una banalità, ma l'articolo 18 è assurdo che sia stato tolto. Significa non tutelare nessun soggetto cosiddetto debole e soprattutto, e questo mi sta a cuore, non tutelare i rompipalle perché mi metto nella categoria. Se uno fa sindacato, se uno dà problemi di qualsiasi tipo sul posto di lavoro perché non va a ribasso in termini di stipendi o flessibilità, lo fai fuori al primo colpo. Invece noi vogliamo essere dei rompipalle, cioè parlare di quello che succede realmente, sia nel campo del lavoro che in tanti altri settori. È un po' quello che ci dicono rispetto per esempio alla questione del voto utile, quindi come devo dire, mi faccio autogolle e la tiro in ballo. Non è così, perché a furia di abbassare le pretese ci siamo ridotti in questo stato. Doveressi faremo il no significa principalmente una cosa per noi, a parte che è una frase dell'internazionale, quindi già soltanto per questo ci piace, ma fare le cose al contrario, cioè rovesciare le cose, rovesciare l'esistente. Per farlo devi puntare in alto, se punti in alto puoi ottenere qualcosa di grande. Se ti accontenti finisci come siamo finiti adesso, cioè con i contratti a quattro ore, con il braccialetto elettronico di Amazon e con le serie di Casa Pound in tutta Italia. Io direi di no, per un motivo molto semplice, che la loro orizzontalità secondo me è soltanto apparente, ne è stata la dimostrazione poi l'elezione di Di Maio a Premier, che è stata un'elezione beffa, perché c'era lui, mia cugina, quello che passava già al palazzo, cioè delle persone con tutto il rispetto ma sconosciute, quindi è evidente che partiva in un vantaggio tale che quella votazione ha lasciato il tempo che ha trovato. Il meccanismo delle assemblee non è semplicemente un meccanismo decisionale, quindi quello che abbiamo adottato noi sia per le candidature che per la stesura del programma. Il meccanismo delle assemblee è un meccanismo di attivazione politica, cioè noi non chiediamo alla gente di stare a casa, di cliccare su una tastiera, su un mouse e di esprimersi, perché questo è una forma orizzontale che poi nasconde invece secondo me un grande autoritarismo e una grande gerarchia che secondo me i 5 stelle hanno alle spalle. Noi invece chiediamo alla gente di partecipare alle assemblee per allargare un processo di attivazione politica, cioè per poi stare nei territori e fare lavoro politico nei territori. A noi delle elezioni ce ne importa perché le elezioni sono uno strumento, ma per noi la lotta si fa sui territori. Le elezioni sono un modo per avere rappresentanza e portare quei discorsi, portare quelle istanze più in alto e sono un modo per riconnettere tante situazioni locali che altrimenti sarebbero disgregate.